ciao sono marco brotto ho 22 anni sono un ragazzo italiano e vengo da vicenza il 12 luglio scorso del 2020 ho fatto un tuffo al mare e mi sono rotto la c5 ovvero la vertebra cervicale 5 ho portato una paralisi una paralisi incompleta e sono tetraplegico e a distanza di 10 mesi e ho fatto beh ho fatto otto mesi di ricovero tra ospedale e varie cliniche di riabilitazione una volta uscito dal ciclo riabilitativo ho deciso di intraprendere un percorso ovvero la swiss medica e praticamente questa swiss medica l'ho venuto a conoscenza sono venuto ne sono venuto consapevole grazie ad altri compagni che hanno avuto un incidente di percorso come il mio ci siamo messi un po di scooter abbiamo guardato un po su internet e così tutti abbiamo deciso di intraprenderlo come obiettivi della vita non non mi pongo grandi obiettivi però cerco di magari di fare qualche miglioramento cerco di anche con questo percorso delle cellule staminali che ad oggi non è una cura comunque certa per una lesione come la mia ovvero midollare però comunque diciamo che può portare a uno spiraglio può portare a magari a qualche miglioramento che per noi ovvero nella mia situazione può essere grande possono essere grandi risultati ad oggi e dopo quasi 20 giorni 25 di ricovero qua dentro la swiss medica beh mi sono contento perché comunque mi sono ritrovato mi sono trovato bene no c'è un team che comunque sembra disponibile anche troppo e ti vengono molto dietro ho iniziato con le cellule staminali ho fatto varie tipologie di cellule staminali ho fatto quelle endovena e ho fatto quelle direttamente nel midollo osseo ho fatto quelle locali nelle gambe e anche nelle braccia e ovviamente diciamo che già dopo una settimana un miglioramento l'ho visto perché comunque ho ripreso la sensibilità nel livello dell'addome e quindi può essere una cavolata però comunque per ragazzi con la nostra lesione possono anche essere grandi risultati e ad oggi comunque mi ritengo fortunato ad aver fatto questo percorso perché comunque miglioramenti possono essercene ancora e speriamo in grande e cosa dire e lo se qualcuno mi chiederebbe mi chiedesse se lo consiglierei ad altre persone con la mia lesione sinceramente gli risponderei di sì perché comunque non è una cura o una medicina che comunque è certa che magari ti porta a fare grandi miglioramenti però comunque ad oggi diciamo che per una lesione midollare di terapie non ce ne sono tante e questo sinceramente a parer mio può essere una delle principali quindi risponderei sì prova perché comunque non hai niente da perdere anzi e puoi solo che aver miglioramenti quindi il mio consiglio ad oggi quasi al termine del mio ricovero nel mio ciclo te lo consiglierei perché comunque ne vale la pena e puoi solo che avere miglioramenti ringrazio tutta la clinica tutta la Swiss Medica perché comunque è un come ripeto è un team che ti viene dietro sempre presente e ad ogni esigenza ogni richiesta ti danno tutto a portata di mano quindi quindi a parere mio merita e perché no se hai la possibilità provaci grazie ancora e ringrazio ancora tutta la clinica grazie ancora ciao